buongiorno a tutti ragazzi bentornati qui su kbtv siamo io voi chi c'è mazfuzzi e lo scemo lo scemo siamo qui con un'altra nuova già uno è saltato ragazzi è partito sim siamo qui con come si chiama vabbè fa niente siamo qui con un'altra random race devastante adesso spaccheremo i cervelli penso perché sim non ci ha abbandonato che era il più forte allora già che ci siamo vi dico della cosa del campionato giusto tanto questo quelli di f1 riguarda chi vuole vedere f1 immagino ma ci avevo già il settaggio caricato allora lo carico va bene quindi praticamente il campionato sarà così a partire da settembre quindi le prime settimane di settembre e dopo se volete anziché andare avanti con la mia carriera f1 faremo il campionato oltre alle random race che sono sempre divertente il campionato online ovvero ci mettiamo lì ogni che ne so un giorno scegliamo un giorno tutti insieme che ci mettiamo d'accordo tipo un butto lì sabato alle 3 ma poi potrebbe essere anche il martedì non credo e faremo appunto il campionato ovvero qualifiche e gara come facciamo io ma non so sta curva 4 sta curva non la vedo che cos'è la curva ma io devo concludere nei primi diciannove macchie 18 tu come sei no no primo dimmi stai registrando sì da quello storpio di tuo fratello che tu che tu venga subito maledetto dal papa ma che tu sia maledetto dallo sciacallo serpentifero che tu che tu venghi ti devono fare un qualche tipo di malocchi ma che ti esploda una gomma in faccia simo ma si ma no i 3 come ne ho superati 10 però ce la prendiamo eh cardicheia si gira perché simo lo c'entra oppure non lo so l'ho storto lo c'entra io che ero dietro a tutti ho visto tutto un caccio vabbè di sicuro non arrivo ultimo quante penalità hai simo? una una ma perché ho buttato fuori schumacher ma non c'è per niente no 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 è colpa di schumacher mazza lo storto mi sa che si è girato mi sa che è andato storto secondo il gioco l'ho girato io perché ti ha dato la penalità ma nella mia visuale non l'ho toccato sì penalità per mazzo dai che se lo supero arrivo davanti perché adesso c'è anche tu siamo pari e te e ho due io di penalità godo ho già vinto sui te quindi si io non arrivo pronto puoi anche evitare di frenare oh se no ti centri che io centro simo magari ti ha dato la penalità ti ha dato la penalità ti ha dato la penalità a me si a me ha squalificato come ti ha hai centrato io ho centrato simo in pieno eh eh e poi sì simo eh ma io ho frenato però ti ho centrato giurra giurra non sono partito ai due centi in avanti no? mi ha dato la penalità e io mi ha squalificato tu non l'hai fatto neanche un giro quanto sei scarso ma cara non l'ho fatta niente oddio oh vai benato dai mi ha centrato vorrei sapere mazzo non sa guidare Goku mi ha centrato in pieno ha dato la penalità a lui ha dato la penalità a lui e la squalifica a me perché ho centrato te qualcuno scriva sim che lo rinvitiamo dopo ah si da in alto ha fatto la chat di testo delle random race che così se volete scrivere cioè siamo tutti lì Goku del cavolo si dai senti guarda che gara spettacolo che sto facendo la modifica è bellissima qualifica godo che cosa? si ma non è vero si è vero è vero ma non mi sono stampato da solo eh probabilmente rientrando ho distrutto qualcuno eh eh boh questa random race ragazzi devo dire che è stata veramente no 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 adesso guardi teo simo ah no c'è ancora qualcuno tipo prince warrior è ancora in gara va bene noi abbiamo finito tutti questa puntata no c'è simo ma ah simo in gara? io so guardare mi sto a far vedere simo che tanto è noioso di 52 minuti dai vabbè basta questa è andata fine ciao ciao ciao